Con la salvezza raggiunta, ennesimo miracolo della società Granata che si appresta ora a disputare il quinto campionato di Serie B consecutivo, è tempo di pensare al futuro. A Cittadella la filosofia della famiglia Gabrielli non cambia, si proverà in tutti i modi a trattenere Foscarini e Marchetti, una coppia che, lo ha dimostrato in questi anni, è in grado di garantire ottimi risultati sportivi e nel contempo perpetrare la strategia della società, ovvero la valorizzazione di giovani e giocatori delle categorie inferiori a vantaggio di un bilancio sempre perfettamente in ordine e quasi sempre in attivo. Il presidente Andrea Gabrielli a breve incontrerà entrambi in separata sede e cercherà di convincerli a rimanere ancora un altro anno. Sia DG che allenatore sono molto legati alla piazza, oltretutto l'anno scorso il reset della vecchia guardia e l'innesto di numerosi nuovi acquisti hanno dato via ad un nuovo ciclo voluto fortemente sia da Marchetti che da Foscarini. Ma c'è da fare i conti anche con il bisogno fisiologico di intraprendere nuove strade e nuove sfide professionali. Lo meritano entrambi e il presidente Andrea Gabrielli ne è consapevole. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.